le maldive potrebbero essere diventate la cornice mozzafiato per la promessa di un per sempre almeno è ciò che vuol farci credere belen rodriguez la chiacchieratissima subretta argentina è volata nel paradiso tropicale col suo elio lorenzoni e generosamente condivide quotidianamente con i followers i momenti salienti della vacanza extra lusso l'ultimo post pubblicato su instagram ha fatto sobbalzare i fans si tratta di un dettaglio della mano della showgirl con un anello da capogiro all'anulare ciliegina sulla torta la caption concisa e dritta al punto si belen è una provocatrice per natura e prima di cedere a facili entusiasmi o ad ancor più facili invettive è bene fare un passo indietro la nuova relazione della rodriguez diventata di dominio pubblico a ridosso dell'ennesima rottura con stefano de martino le è costata aspre critiche da parte del popolo dei social in particolare i detrattori l'accusano di recitare costantemente lo stesso copione ogni volta che inizia una nuova storia d'amore uno schema fatto di valanghe di post dichiarazioni zuccherose e appunto fughe romantiche alle maldive tra gli atolli dell'oceano indiano infatti la showgirl ha festeggiato il trentesimo compleanno di de martino e anni prima è stata paparazzata con fabrizio corona sulle stesse spiagge infine si è rilassata prima con andrea iannone e poi con antonino spinalbese quando era incinta di luna marì tuttavia la modella non si è mai curata troppo dei giudizi altrui al contrario ama punzecchiare un paio di settimane fa in risposta a chi insinuava che la relazione con l'imprenditore bresciano non fosse altro che una ripicca contro l'ex marito la 39 n ha condiviso un post non dissimile in coda ad un carosello di quattro scatti belen ha inserito un dettaglio in bianco e nero della mano di elio con anello all'anulare bene in vista lo stesso anello che porta anche lei certo un innocente pegno d'amore innocente è una cosa una pietra preziosa grande quanto una ciliegia è un regalo che di norma lascia intendere ben altro